Musica Hanno scelto l'inno alla gioia di Beethoven, i ragazzi del coro del gruppo musicale del liceo europeo Altiero Spinelli che con i loro compagni, in tutto circa 120 ragazzi, si sono ritrovati giovedì 9 maggio nel palazzo della città metropolitana in Corso Inghilterra per dar vita a un flash mob in occasione della Festa dell'Europa. La manifestazione di oggi è proprio dedicata all'Europa sia in senso culturale, ideale, sia in senso politico. I ragazzi oggi con l'orchestra e con il coro eseguiranno l'inno alla gioia di Beethoven che è appunto l'inno dell'Europa e con i loro compagni parteciperanno a un'iniziativa di sensibilizzazione che poi dalla città metropolitana andrà in Piazza Castello per anche lì ripetere il concerto e spiegare una grande bandiera e coinvolgere tutti i, possibilmente, i cittadini in un grande girotondo. Questo anche perché al di là della sua vocazione diciamo istituzionale, appunto non è un caso che la scuola sia intitolata dal Tiero Spinelli i ragazzi delle quarte e delle quinte sono stati nominati junior ambasciatori del Parlamento Europeo in Italia e oggi riceveranno questa intitolazione diciamo. La data ricorda il giorno del 1950 in cui vi fu la presentazione da parte di Robert Schumann del piano di cooperazione economica ideato da Jean Monnet ed esposto nella dichiarazione Schumann che segna l'inizio del processo di integrazione europea con l'obiettivo di una futura Unione federale. Lo Europe Direct della città metropolitana di Torino è stato lo spazio privilegiato per l'evento speciale con cui festeggiare la ricorrenza. Alla loro presenza e con la partecipazione del vice sindaco metropolitano è stato inaugurato anche un murale che Xel, noto street artist torinese, ha dipinto in questi giorni sui muri dello spazio Europe Direct dipanando su tre pareti a colori un immaginario viaggio fra le capitali d'Europa un omaggio alla bellezza e varietà di scenari e culture che l'Europa offre attraverso la sua architettura e i suoi monumenti e la libera circolazione. La nostra scuola ci dà l'occasione di suonare nell'orchestra della scuola che è una bella iniziativa che comunque spinge molti musicisti a conoscersi e molti ragazzi a unirsi con un'arte così bella come quella della musica. Abbiamo scelto Rino La Gioia perché diciamo che come appunto inno ufficiale dell'Unione Europea e appunto come espressione pura della libertà e dell'arte incredibile che è quella di Beethoven fondamentalmente. Viva l'Europa!